Bella guys voglio ricordarvi che se volete supportarmi negozio oggetti supporta un creatore con il codice portu accettate da ora ogni acquisto che farete vi darà un piccolo supporto grazie a tutti Perché raga stranamente in questo periodo la gente non si sta iscrivendo Mi spiace davvero un sacco perché comunque raga solo oggi credo di aver fatto per le 11-4 ore di live e farle in periodo scolastico con palestra, impegni è davvero tanto Mi ci sto sacrificando un sacco e vedere che comunque non c'è un riscontro da parte delle persone è veramente triste però vabbè è normale ragazzi ci sono periodi e periodi Insomma non si può pretendere che vada sempre tutto bene Come non si può pretendere che questo tipo per esempio qualche volta scende e viene salvato qualche volta scende e si prende una mazzettata come l'ha appena presa Cioè sembra stupido ma il concetto è più o meno lo stesso Se riesco a intromettermi Non riesco Madonna ragazzi non riuscivo a mirare Io ho avviato qualche cosa che non mi permetteva di mirare bene Cioè non lo so avevo premuto qualcosa Stavo tenendo premuto Non ci ho fatto caso però Mi stavo mettendo veramente in una brutta situazione Dono mano a tutti quanti Oh cavolo Ah Madonna guys Vedete a che serve lo shield bubble Lo amo ragazzi per questo Veramente lo shield bubble ti permette di fare magie Veramente ragazzi Oh Certo che ragazzi in queste partite stanno come i cani Ma non lo so che Vabbè Quanto godo Personalmente dove posso andare Penso è ancora un nemico qua Ha visto Ok I scontri qui ragazzi sono tutti uguali Tutti al cardiovalma Tutti sull'astrico del vincere e del perdere Da un momento all'altro Inquietante insomma Inquietante però abbiamo le nostre 7 kill Siamo a 28 non è male guys Non è male Credo sia entrato qualcun altro sinceramente Ma quello che ci manca è un fucile a pompa decente E la mitraglietta Materiali non sto malissimo La bravia mi fullo anche di legno La safe è abbastanza grande però eh Non me l'aspettavo così grande ancora Sinceramente me l'aspettavo più piccola Non tanto per il tempo costato ma per il numero di persone Siamo veramente pochi per una safe così grande Questa è ancora la prima guys Cioè se qualcuno mi sta inseguendo E ha un fucile precisione Cosa molto probabile E infatti mi stanno sparando Beh era ovvio Era ovvio proprio Ok quello sta a terra Però un nemico davanti E un nemico dietro Qua avrebbe sempre Avrebbe senso giocare con la bubble Sinceramente Eh si Ha molto senso giocare con la bubble Che pericolosissimo qua guys Che palle veramente Dato che non mi serviranno Dato che prendo questa Giochiamo di bubble ragazzi Ah quanto amo questi oggetti ragazzi All'inizio li reputavo una cazzata Ma ora Veramente non è che li ripeto essenziali Però In certe situazioni Veramente si salvano DS Insomma ecco Allora Sta un tizio in questa casa qui Sta pure in safe Quindi sinceramente Ah non sta Ah Ah ho capito Ho capito mon frère Ho capito tutto Dai che camperone Pauroso questo Ah ma io dietro l'avevo aperto Bella Che fa? Ah Cecchinata Non so da dove è bene Ah pericoloso eh questa cosa Pericolosissima Ok capito da dove Va bene Questa però Questa è infamia Ah ma siamo antiche die Ah Ho capito Ho capito caro fortnite Insomma senza Senza proprio un minimo di Di tatto ecco Ok ho capito Ho capito Ho capito Si Che cerchi di farmi eliminare dai cecchini Io non ho capito Quella tua tecnica Mon frère Ho capito 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 Che game incasinato Jump jump Oh ma sono altro tipo Ah ho capito Ho capito Insomma solito Ah ok 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 Vi prego basta siete troppi Non ce la faccio più Veramente ragazzi mi sta Mi si stanno sfondendo i neuroni Due tizi due tizi calmi 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 Questa qua è difficile da gestire Allora Fortu gioca come se stessi circondato da cecchini Cosa effettivamente vera Possibilissima L'ha eliminato? Sì Jump Via 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 Questa è un nemico? Spero di no Spero di no Ok no è solo una chest Buggatissima In pop up Cioè no in pop up Scusatemi In caricamento Ma personalmente Chi mo fa fare Di affacciarmi Con tutti sti cecchini In giro C'è tutta una cosa Per farmi Perdere le ground Per esempio Ora qua è pericolosissimo Cioè io gli sto pushando Addosso a sto tipo No Ho capito il tuo giochetto Mon frere È mica male È mica male Solo che se fossi stato Più svelto Ti avrei potuto anche eliminare Va bene Tu stai cercando Veramente di sfondare La struttura? Ma sul serio? Vabbè io con 22 poi Ah ma sta anche il tizio là E vabbè ragazzi Ma questa partita È questa partita Insomma Che facciamo? Mamma mia Siamo prendi i 3 yarder Io in primis Mamma mia signori Ma veramente È una partita così complicata Oggi Sta risalendo Questo non ci posso Domani Ah Questa per esempio Mi ha fatto male Nel cuoricino Questa per esempio Non doveva succedere Mai nella mia vita Let's fucking go Let's fucking go Vi ricordo di iscrivervi al canale Se non siete già iscritti E di attivare la campanellina Per questa vittoria Pole da 17 kill guys Mamma mia Che abbiamo combinato GG per noi Allora Come solo A-